Ups a tutti i miei cari upsini e upsine, come state? Come state? Spero bene, ovviamente io spero sempre che stiate bene, che vada tutto bene, ho qualcosa nell'occhio, partiamo bene. Oggi sono qui solo per voi, per fare un video in realtà molto semplice, basato su brushing, sia un po' sul pennello, sia un bel po' davanti la telecamera, tanti visual trigger, tanti mouth sound. Questo, a grandi linee, l'ho visto da un ragazzo su TikTok che praticamente faceva in un video solo questo e ho detto, facciamolo. E quindi sono qua. Perciò mi raccomando, indossate un paio di cuffie, di auricolari e stendetevi nel vostro letto, provate a chiudere gli occhi. Va bene? Magari chiacchieriamo anche un po' ogni tanto. Devo cercare di non guardare troppo dietro di voi il riflesso per vedere se sto rientrando nella fotocamera, ma di concentrarmi più a guardare verso di voi. Ecco la mia la pericolari sono un po' di cuffie proprio che ora lascia mesi. Perciò ho anche scerito in un nastro video, ciò pools. Impe conexi sui tomiscono sul piano. Esci scegliere. Però, come no, 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 no Uno dei motivi principali per cui vorrei cambiare la fotocamera è perché mi piacerebbe poter avvicinare il pennello più di così, solo che se lo faccio la luce cambia e io divento sfocato e non ritorna più come era prima. Perché un conto dici, vabbè, succede, ma poi ritorno al normale un paio di secondi dopo. No, rimango così. Perciò non posso farlo. Poi la settimana in cui questo video uscirà andrò finalmente a tagliarmi i capelli perché lo dico pure io che sono un po' pazzerelli a volte, che sono tanto lungo. Sarei fatto che per chi magari di voi mi segue da un po' sa perché io ci metto così tanto tempo prima di preparare e di prenotare, scusate, dal parrucchiere per andare. Nel caso invece qualcuno di voi fosse nuovo e non lo sappia perché, non lo so, sapete per esempio le persone a cui non piace andare dal dentista? perché, perché, non lo so, non gli ispira fiducia, c'erano anche quasi paura di andare. Ecco, io ho più o meno la stessa cosa ma con i parrucchieri perché è come se non mi fidassi di loro. Cioè, non lo so, non mi sento a mio agio ad andarci e a farmi dei chiari capelli perché chissà che non fanno qualcosa che io non voglio. E non lo so, quindi c'ho un rapporto un po' così. Oggi ho anche gli occhi che non reggiano troppo le luci, non so come mai. E non lo so, non lo so, non lo so. E non lo so, non lo so, non lo so. E non lo so. E non lo so, non lo so. un po' di più no un po' un po' un po' un po' ok oh, non riesco tenere il respiro poi un'altra cosa che volevo chiedervi è di consigliarmi qua sotto nei commenti ho qualche video che vi piacerebbe vedere così che io possa se trovo quel video interessante prendere spunto per ricrearlo ne ho già in mente di farne uno che mi è stato richiesto devo però capire di inventarmi qualcosina e quindi questo è a me piace sempre un sacco quando vi vedo che siete partecipi nei miei video e quindi lo seguite commentate a me fa molto piacere a me fa molto piacere no non 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 un po' un po' un po' no comunque che bello quando ci sono delle notti dove non passano un sacco di auto qua davanti a casa mia perché io non le arrecco io non le arrecco io voglio sapere chi sono i pazzi che alle 2 alle 3 di notte vanno in giro non lo so ad ogni modo credo sia giunto il momento di dire cucù cucù ora tocca a te mi raccomando iscriviti al canale se non l'hai fatto siamo quasi arrivati a fatemi controllare 3000 iscritti dobbiamo ancora lavorarci un po' però siamo lì dai fatemelo come regalo entro fine anno proviamo a raggiungerli che dite? volevo vedere ma non mi carica la pagina buono e lasciate un like un bel commento sotto questo video se vi va in generale dai e mi raccomando il video ora finisce qui se tu vuoi restare ancora insieme a me io ti lascio di qua il mio video precedente che a cui in realtà tengo abbastanza ci ho messo un po' a farlo e un po' a fare anche la copertina e secondo me non sta avendo il riscontro che avrebbe dovuto perciò se te lo sei perso vallo a recuperare poi una mia playlist e il tasto per andare sul mio canale e vedere tutti i video e i shorts che vuoi recuperati anche i shorts vecchi se te li sei persi e niente dai io ti mando un grande bacio e buonanotte 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 buonanotte